Ciao ragazzi, in questo video il team radio di Charles Leclerc, subito dopo l'impatto che va a decretare bandiera rossa e quindi la fine di Q3. Speriamo che non ci sia da cambiare nessun pezzo per la sua monoposto, così da garantire a Charles la partenza dalla prima posizione. Intanto amici, godiamoci questa grandiosa pole position. Siamo in questo modo, Charles? Sì, sì, sì. Ok, la pica. Capito. N.P.Z, per favore. Grazie a tutti.